Buonasera a voi gentili telespettatori e ben ritrovati a questo approfondimento di Prima News Focus. Come sempre diamo spazio ad argomenti di attualità e parliamo oggi di energia, di bollette, di consumi e lo facciamo come sempre con l'ospite che mi ha raggiunto in studio e che ringrazio. Sto parlando di Gianluca Buffo, amministratore delegato di IREN Mercato. Grazie a lei per essere qui con me oggi. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Allora abbiamo sentito in questi mesi parlare ovviamente di aumenti per quanto riguarda il costo delle energie, il costo delle materie prime, l'aumento dei costi in bolletta, ovviamente tante famiglie, imprese se ne sono già accorte. Noi cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori cosa sta avvenendo in questo momento e ovviamente come tutelarsi. Partiamo proprio da lì. Che cosa è successo in questi ultimi mesi che ha poi dato queste conseguenze importanti all'interno delle nostre bollette? Diciamo che purtroppo è successa una tempesta perfetta, imprevedibile, perché non c'era alcun segnale sulla parte domanda di gas o di energia elettrica, di un'incredibile ripresa dei consumi. Siamo ritornati nel 2021 a dei consumi normali ante il lockdown, però sono venute meno delle condizioni al contesto. Ormai in un mercato sempre più interconnesso, dove i prezzi del gas e dell'energia elettrica italiani risentono anche di quelli europei e risentono soprattutto del prezzo del gas prodotto da paesi ben lontani dall'Italia, visto che l'Italia ha delle piccolissime produzioni di gas per i propri fabbisogni. E quindi da luglio dell'anno scorso è cominciata una significativa galoppata dei prezzi, che sono quintuplicati. Eravamo a novembre, poi sono diventati quasi sette volte, eravamo circa le prime settimane di dicembre. A gennaio, febbraio, con la crisi russa e la guerra in Ucraina, siamo arrivati a quasi 9-10 volte. E quindi questo costo del gas, che è quasi diventato 8-9-10 volte, incide anche per il paese italiano sul prezzo dell'energia elettrica, visto che in Italia il 60% della produzione di energia elettrica avviene da fonte gas e quindi si riflette l'aumentato prezzo del gas anche sull'energia elettrica prodotta. Ovviamente, lo sappiamo, l'Italia è dipendente in gran parte dall'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'energia e quindi questo sicuramente ha avuto delle conseguenze molto importanti. Sì, siamo in una fase dove chiaramente, anche come IREN, siamo fortemente impegnati nello sviluppo, per esempio, di tutte le fonti rinnovabili, pur avendo storicamente una grossa produzione da acqua, da idroelettrico, ma stiamo sviluppando nuove produzioni da solare, da fotovoltaico, da vento, l'eolico e tutto il paese, un po' tutta l'Europa che sta vivendo questa transizione energetica. Però certo, la transizione energetica ci vuole comunque del tempo per fare nuovi impianti di produzione rinnovabile, quindi non legati al gas per la produzione di energia elettrica e questa crisi del gas che è cominciata da luglio e che purtroppo ha preso anche il tema della guerra ucraina nell'esposizione più totale al tema del gas russo, viene in un bel mezzo di una tempesta che è diventata purtroppo perfetta. Allora, IREN, che non l'abbiamo detto, ma è una multi-utility che opera nel settore dell'energia elettrica, del gas, del riscaldamento, dei servizi ambientali, dei servizi idrici e dei servizi tecnologici per le pubbliche amministrazioni, opera ovviamente in quello che è il mercato libero, no? Da questo punto di vista... Anche un po' di tutela, soprattutto a Torino noi clienti che negli anni hanno voluto rimanere nella tutela continuiamo a servirli chiaramente con il prezzo di tutela definito dall'autorità. Certo, un po' un peccato in questi ultimi mesi perché se avessero cambiato un po' prima il prezzo del mercato libero che abbiamo dato ai nostri clienti sarebbe stato decisamente più competitivo in quanto un prezzo fisso, però un 250 mila clienti in tutela ce l'abbiamo, soprattutto qui su Torino. Ecco, spieghiamo che cosa si può fare adesso, cosa prevede il governo, cosa prevede IREN in particolare per quanto riguarda il pagamento di queste bollette che sono diventate sempre più pesanti. Allora, il governo ha cominciato a intervenire, focalizziamoci sulle famiglie, perché poi per l'impresa e per le aziende ci sono qualche altra misura da parte del governo, diciamo a novembre il governo ha cominciato a intervenire sostanzialmente riducendo la fiscalità che si applica sulle bollette, tipicamente il cosiddetto taglio dell'IVA e un po' di eventuali accessori fiscali che ci sono nel prezzo delle bollette e ha via via mantenuto questa defiscalizzazione del gas e dell'energia elettrica, poi indipendentemente che parliamo del mercato libero o della tutela, perché la fiscalità si applica indipendentemente che uno sta in mercato libero o in tutela. Poi diciamo che invece da circa il periodo di fine dicembre ha cominciato a emanare alcuni interventi per facilitare, dilazionare il pagamento delle bollette stesse, quindi ha imposto a tutti gli operatori che trattano la vendita del gas e dell'energia elettrica di dover concedere ai propri clienti fino a 10 rate senza interessi per tutte quelle bollette che cominciavano a essere emesse da gennaio in poi, quindi consentendo pagamenti rateali senza interessi alla propria clientela. Questa è una misura che in qualche modo, fatemi dire, cerca di semplificare il problema ma non lo risolve di certo a monte, c'è da dire che noi come IREN abbiamo sempre visto nella relazione pluriennale che abbiamo con la nostra clientela basata su apporto, fiducia reciproca e possibilità, qualità dei nostri livelli di servizio, noi abbiamo sempre dato le rateizzazioni alla nostra clientela, nel 2021, questo su tutti i nostri clienti di tutte e tra le regioni abbiamo erogato circa più di 20 mila rateizzazioni. Adesso abbiamo messo in ambito anche queste nuove misure del governo, quindi con dei pianirati più lunghe, il piano rate del governo richiede un pagamento della prima bolletta al 50% e l'altro 50% spalmato in altre nuove rate, noi abbiamo fatto anche degli ulteriori facilitazioni, anche supportati di alcuni accordi anche con le associazioni dei consumatori dove chi vuole anche le 10 rate la prima rata la può pagare del 30% e non del 50%, ovvero consentiamo alla clientela anche rate più lunghe o magari 5 rate ma senza pagare la prima del 30% o del 50%, quindi cerchiamo di facilitare senza interessi il più possibile l'intervento. È chiaro che è una misura che sostanzialmente pospone, cerca di diluire un po' il problema ma a monte non lo risolve perché il prezzo della materia prima è comunque soprattutto per i clienti della tutela, chi non ha i prezzi fissi è sicuramente decisamente più caro, assistiamo a bollette che sono diventate due volte, tre volte il normale. Proprio per questo, oltre che rafforzare tutti i nostri canali di contatto per in qualche modo accogliere queste richieste di rateizzazioni, stiamo facendo uno straordinario lavoro, questo da novembre, a informare la clientela che ci sono queste possibilità o addirittura cercare di, non dico prevenire, però stiamo da dicembre e da gennaio chiamando tutti i clienti che ricevano quella bolletta più alta del normale, sopra certe soglie, li stiamo contattando in prossimità al giorno in cui riceveranno la bolletta proprio per spiegargli qual è la situazione e eventualmente capirele come esatto. Allora, in questa parte del nostro approfondimento vorrei parlare anche di quella che viene definita la transizione ecologica perché se c'è un aumento nel costo dell'energia un po' dipende anche da questo, dal fatto che l'energia prodotta in maniera più inquinante ovviamente viene pagata di più, ecco questo lo sappiamo, quindi il costo della produzione di CO2 per esempio. Vorrei mandare in onda il servizio che abbiamo realizzato che ci parla del Piemonte dal punto di vista energetico e di quanto incide nel consumo energetico del Piemonte l'utilizzo di fonti rinnovabili. Vediamo. È stato presentato in giunta regionale il nuovo rapporto statistico sull'energia in Piemonte aggiornato al 2021. Ne emerge un Piemonte che nel 2019 ha registrato da un lato la contrazione dei consumi finali di energia di circa il 6% rispetto al 2018 che porta il dato al di sotto della soglia e dei 10 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e che non riguarda più solo il comparto industriale ma anche quelli dei trasporti, residenziale e terziario. Dall'altro emerge un dato rassicurante, vale a dire la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda la riduzione dei consumi il dato registrato nel 2019 cui hanno contribuito in modo significativo le misure strutturali sull'efficientamento energetico messe in campo dalla regione Piemonte rappresenta in assoluto il valore più basso registrato dall'Enea negli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica anche nel 2020 il Piemonte registra un eccesso di produzione rispetto alla domanda interna. Ciò è dovuto senza dubbio al ruolo sempre più centrale delle fonti rinnovabili da cui proviene circa il 37% della produzione netta. Tuttavia resta una quota ancora elevata di produzione termoelettrica basata sul gas. Uno degli obiettivi del Piano Energetico Ambientale regionale approvato lo scorso 15 marzo dal Consiglio è che nel 2030 le rinnovabili contribuiscano per più del 27% ai consumi finali complessivi spiega l'assessore all'energia Matteo Marnati. Considerando i consumi finali complessivi termici ed elettrici le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono oggi per una percentuale pari al 18,7% e questo dato rappresenta il più alto finora registrato. A crescere sono state le rinnovabili elettriche ai massimi della serie storica pubblicata dal gestore servizi energetici. Tra le fonti rinnovabili elettriche la principale nel 2019 risulta essere l'idroelettrico con il 66,5% della produzione seguito dal solare fotovoltaico che ha registrato una produzione pari al 16,5%. Guardando il 2030 le dinamiche in atto sui principali indicatori quali la quota di rinnovabili sui consumi finali, la riduzione del consumo interno lordo e del consumo finale lordo e delle emissioni di CO2 sono in linea con gli obiettivi indicati dal piano energetico ambientale regionale, conclude Marnati. La revisione della strategia europea per essere adeguata all'obiettivo di lungo periodo della neutralità di carbonio al 2050 pone obiettivi più stringenti ed ambiziosi che richiedono un ulteriore salto nel processo di decarbonizzazione in atto nel prossimo futuro. Allora sicuramente si stanno facendo passi avanti per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile ma non così tanto. Quanta energia viene prodotta da fonti rinnovabili in generale in Italia? Ecco perché abbiamo sentito qui parlare in particolare del Piemonte e quanto dovrebbe essere secondo quelli che sono gli obiettivi che il nostro Stato si è assunto. Oggi abbiamo in Italia, va premesso una cosa, il prezzo dell'energia elettrica italiana è un prezzo italiano, poi è vero che c'è una zona nord, una zona centro, una zona sud ma sono piccole differenze per tenere conto di come l'energia elettrica da dove viene prodotta viene anche trasportata a tutti i centri di consumo. E quindi è vero che qui in Piemonte c'è una grossa produzione rinnovabile idroelettrica, oltretutto è prevalentemente la nostra di IREN dietro quei numeri, però è anche vero che bisogna proprio guardare come si diceva a livello nazionale. A livello nazionale parliamo di una produzione da fonte rinnovabile che è ancora un zoccolo durissimo dell'idroelettrico che fu sviluppato 60 anni, 80 anni, 100 anni fa in Italia, quindi le dighe, gli impianti, i bacini, l'acqua fluente sui fiumi, con le centrali, in più quel po' di rinnovabili da fotovoltaico ed eolico di questi ultimi 5-10 anni, ma fa fatica ad arrivare a circa il 30-40% del fabbisogno totale del consumo. Questo cosa vuol dire? Che guardando a un medio termine, secondo me sono diverse le azioni, io le classificherei tra azioni emergenziali, immediate, breve termine e medio termine, ma guardando a un medio termine sicuramente e anche specialmente per i temi ambientali, tutta la transizione verso fonti rinnovabili non soltanto aiuta e aiuterà l'ambiente, perché non si emette CO2, seppur il gas è la migliore tra le fonti da combustione nelle emissioni delle CO2 o nelle polveri sottili, questo aiuterà le rinnovabili a abbassare le emissioni di CO2, ma ci aiuterà anche a slegarci da quella dipendenza da paesi lontani da cui il gas viene importato e su cui, se poi succedono delle crisi internazionali, ne risente anche il prezzo dell'energia elettrica. Ma queste sono misure del medio termine. Noi come IREN stiamo sviluppando nuova capacità rinnovabile, al di là dei nostri storici impianti idroelettrici e un po' tutto il mercato sta vedendo possibilità di sviluppare nuove rinnovabili in linea anche col piano nazionale. Certo ci aspettiamo anche un buon ruolo delle pubbliche amministrazioni e di noi stessi cittadini di trovare processi snelli per costruire e mettere a terra quegli investimenti che siamo pronti a fare. Passando invece un po' al breve termine le cose sono diverse perché questo richiederà ancora due, tre, quattro, cinque anni, sei anni, ok? Questo è un po' il tempo del medio termine. Nel breve termine invece quello che si può fare è in qualche modo anche supportato da quei bonus, il 110%, lo sconto in bolletta ce ne sono diversi, però andare ad agire, noi come IREN siamo molto attivi su tutto quello che è la riqualificazione dei nostri edifici, dell'efficientamento, sia dal punto di vista di coibentazione, quindi il cosiddetto capotto, il tetto isolato, i serramenti a bassa dispersione di calore, ma anche tutte quelle formule di miglior produzione efficiente, che sia la caldaia efficiente a condensazione, che sia il pannello fotovoltaico messo sul tetto o immagazzinata nelle batterie per l'energia elettrica, quindi una produzione decisamente più efficiente. Questo è il breve termine. Nell'immediato siamo in una tempesta perfetta, secondo me esistono solo purtroppo delle misure emergenziali. Per uscire, ma per uscire vuol dire abbattere il consumo e purtroppo anche cambiare la caldaia, al di là che uno deve averne un minimo di disponibilità economica, anche se la facilitiamo, ratezzando l'importo rimanente da ciò che non è coperto dal bonus del governo, però comunque richiede qualche settimana, qualche mese per installare una caldaia. Nell'immediato la cosa migliore è ridurre il consumo, io lo dico sempre, ridurre di un grado la temperatura nelle nostre case, consente di risparmiare tra il 5 e il 10% del costo del gas, stare molto attenti a quelle forme di consumo futili, sull'energia elettrica, dagli stand-by, quindi non di certo, sto parlando di un'economia di guerra, no? E quindi proprio veramente... Diciamo, quello che possiamo fare nel nostro piccolo. Però nel nostro piccolo sicuramente, ecco, piccoli accorgimenti in qualche modo vanno in quella direzione. Poi nel breve termine, anche con poche settimane, certo, chi ha scelto le nostre caldaie efficienti o i nostri pannelli fotovoltaici per le case, chiaramente ne sta già beneficiando. Certo, ovviamente queste sono misure più di breve. importanti. Io, in chiusura del nostro spazio, innanzitutto la ringrazio davvero ancora una volta per tutta la competenza che ha messo anche a disposizione dei nostri telespettatori e visto che non siamo riusciti in questo caso a parlare di teleriscaldamento, però questo è anche un settore importantissimo perché quando si parla di ambiente, no? Il teleriscaldamento ovviamente può fare la differenza nelle nostre città e lo stiamo vedendo a Torino. A Torino si sta investendo, Irene sta investendo molto con l'amministrazione cittadina nel farla diventare la città più teleriscaldata d'Italia, no? Questo è uno degli slogan con cui l'abbiamo conosciuta. È stato acceso un altro grande impianto di teleriscaldamento che fornisce energia ad una zona importante della città, vale a dire Mirafiori Nord e noi eravamo proprio all'inaugurazione di questo importante impianto. Io voglio ringraziarla e salutarla così, così come saluto e ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Sull'area un tempo occupata da una centrale termoelettrica nasce ora un impianto alquanto innovativo. Con il classico taglio del nastro è stato infatti inaugurato a Torino, in zona Mirafiori Nord, il nuovo impianto Iren di accumulo calore, solare termico e fotovoltaico. Oltre a collegare tre dorsali della rete di teleriscaldamento di Torino, la struttura alimenta una significativa area del quartiere di Mirafiori Nord e rientra nel progetto di sviluppo di teleriscaldamento destinato ai territori in cui opera il gruppo Iren ed inserito nel piano industriale al 2030 per un totale di 835 milioni di euro di investimenti, di cui 610 destinati all'area metropolitana di Torino. Sì, è un piano molto ambizioso sia per la crescita degli investimenti, 13 miliardi, sia per l'investimento nelle fonti rinnovabili, 2 miliardi e mezzo focalizzati su le varie fonti energetiche che noi produciamo con l'ottica di ridurre le emissioni della metà. Recentemente Science Based Target, che è l'associazione internazionale che monitora le aziende, ci ha approvato il nostro piano di riduzione che prevede il dimezzamento delle emissioni per chi ho attora prodotto e questo è una grande soddisfazione per l'azienda. L'impianto è stato realizzato in 5 anni con un investimento complessivo di 46 milioni, 10 per la struttura e 36 per la rete. Questo è un impianto di accumulo di energia termica nella forma di acqua calda che sostanzialmente sostituisce una caldaia che era di 30 megawatt realizzata in questo cubotto qua dietro di me, e consente di evitare di utilizzare gas la mattina quando ci si sveglia e la domanda di calore aumenta o la sera quando ritorniamo a casa e aumenta la domanda di calore. Questo viene fatto sia con l'accumulo sia con la produzione di energia di calore attraverso solare, termico e fotovoltaico. Un investimento molto importante che si concentra in quest'area e tra l'altro che attira un finanziamento verde dalla comunità europea di 80 milioni di euro che viene sottoscritto oggi proprio per finanziare questo tipo di progetti ambientalmente sostenibili e che fanno risparmiare energia. L'investimento è finalizzato a saturare ed estendere il teleriscaldamento con l'allacciamento di nuove utenze, a migliorare l'efficienza operativa e la flessibilità dell'area di Torino attraverso la completa integrazione degli asset gestiti nell'area metropolitana e ad aumentare la resilienza dell'infrastruttura rinnovando le parti più datate. Torino è la città più teleriscaldata e anche più resiliente grazie a questi contributi di accumulo termico, vedete i sistemi di accumulo che consentono di migliorare l'idraulica, che consentono di migliorare il rendimento dei cicli combinati che erogano il carore verso la città, con questi contributi 100% rinnovabili che consentono ovviamente la riduzione del CO2 in modo rilevante. Contribuisce assolutamente a tutta la città di Torino, migliora l'idraulica, quindi riduce il consumo delle pompe, riduce quindi l'emissione di CO2 e costituisce un elemento innovativo nella rete di flessibilità attuale, una vera innovazione per Torino. Lo sviluppo di questo tipo di impianti consente di ridurre le emissioni di CO2, migliorando la qualità dell'aria nell'area metropolitana di Torino e incrementando il risparmio di energia primaria utilizzata. Sicuramente è un impianto che innanzitutto ne riconverte un altro, che era inquinante e che invece dà una strutturalità verso la transizione ecologica e verso l'abbattimento delle emissioni molto importante per lo sviluppo della strategia energetica e ambientale della città. Il fatto che vi sia un immagazzinamento di energia in questo sito consentirà una riduzione complessiva della CO2 e permetterà di rispondere ai picchi di domanda di quando il teleriscaldamento serve di più ai cittadini e alle cittadine torinesi. A sostegno del progetto, in questi giorni IREN e Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa hanno concordato un finanziamento del valore di 80 milioni di euro che servirà a supportare lo sviluppo della rete di teleriscaldamento nell'area metropolitana di Torino. 80 milioni di euro, ma molti saranno sviluppati in futuro. Sono previsti investimenti di circa 800 milioni nell'arco di 10 anni. Ci sarà lo sviluppo anche nella parte nord-est di Torino, attualmente poco interessato al teleriscaldamento, utilizzando il calore marginale residuo della centrale ENGIE di Leini. ENGIE di Leini